Recensione in un minuto. Oggi vi voglio parlare di Darkness, che è un romanzo young adult scritto da Leonardo Patrignani, che narra la storia di una ragazza, Hayley Foster, che ha perso i genitori in circostanze misteriose e che desidera solamente scappare da Little Crow, la cittadina in cui abita. Tuttavia, nel momento in cui cerca di lasciare la città, una nube nera cala sulla cittadina e inizia una notte senza fine, all'interno della quale scoprirà il significato dell'amicizia e dei ricordi. Questo romanzo mi è piaciuto abbastanza, ha una scrittura un po' più immatura rispetto alla saga Multiversum di Leonardo Patrignani, che avevo amato moltissimo e che è una trilogia che vi consiglio molto, però è stato un romanzo abbastanza coinvolgente e commovente, profondo sul significato della perdita, quindi ve lo consiglio.